Sono stimolo del Rettore dell'Università del Molise che ha lanciato insieme a tutta la squadra, la sede di Termoli, il nuovo corso di laurea, il nuovo indirizzo in enogastronomia e turismo. Quindi l'Università del Molise che sposa appieno questa nuova tendenza su cui anche il Comune Termoli sta puntando. È un evento, Sapere Sapori è un evento di cultura dell'enogastronomia dove si ragionerà su che cos'è il parlare di prodotti tipici, che cosa vuol dire ragionare su come elaborare i prodotti tipici che poi diventano piatti, piatti da degustare. E' quindi una serata in cui la cultura enogastronomica trova il momento di realizzazione. Ci saranno momenti di degustazione dei prodotti tipici grazie alla collaborazione di vari partner operatori locali. Ci sarà un momento di cooking show dove il professor Santilli, lo chef Santilli, elaborerà piatti proprio partendo dai prodotti tipici locali. Il tutto proceduto da un docufilm, un documentario che abbiamo girato nei mesi di giugno e luglio andando a scoprire quelle che sono le eccellenze che questa terra ci può offrire. Quindi una serata dove il tema fondamentale è l'enogastronomia ma soprattutto è la cultura dell'enogastronomia che verrà esaltata. Termoli può sicuramente offrire tanto quando si parla di turismo enogastronomico proprio perché ha delle sue eccellenze ma proprio perché è la vetrina di tutto il Molise. Quindi Termoli come sintesi di tante eccellenze. Quindi parlare di Termoli, solo Termoli secondo me è riduttivo. Parlare di Termoli come vetrina del Molise enogastronomico sicuramente può offrire tanto e può competere sui mercati nazionali ma anche internazionali. Quindi sicuramente turismo enogastronomico. I sette prodotti sono un po' una invenzione, una scoperta dello chef Santilli. Sono quelli che rappresentano in pieno le nostre eccellenze che si parte dal mare e quindi tutto ciò che è la pesca per arrivare fino all'entroterra e quindi il tartufo. In mezzo i classici del vino, i formaggi piuttosto che olio.